Non perdere la storia di oggi! Unboxiamo una LOL Surprise serie 2 e una Lil Sister serie 2! Adesso mi rilasso e mi bevo un po' del mio cappuccino Che cosa potrei fare adesso? Il bagnetto l'ho già fatto La pizza l'ho già mangiata Il cappuccino l'ho già bevuto Ma io mi sto veramente annoiando Basta, devo fare assolutamente qualcosa Sì, mi è venuta un'idea Adesso io vado qui Mi faccio così Aspetta che pesa Faccio l'ordine Invio E adesso devo soltanto aspettare Aspettare Quando arriva Hanno suonato Hanno suonato Devo andare Vai Vai E' arrivato E' arrivato E' arrivato Devo aprire questo pacco Come lo apro? Abbiamo delle forbici Abbiamo delle forbici Aspetta Ma che faccio? Non riesco Aspetta ci provo Le forbici Eccole Ecco adesso Adesso ce la faccio Adesso taglio la busta Adesso ce la faccio Vedrai che ce la faccio Ecco Ecco L'ho aperta No Sono caduti pure gli occhiali Non riesco ad aprire Ci riprovo Ci riprovo Ce la devo fare Ma Non ci riesco Devo farmi aiutare da qualcuno E' Ah Sta arrivando qualcuno Faccio finta di niente Faccio la bambola Lara ma per caso hai visto il mio telefono? No Non lo vedo Ma eccolo Ma sta qui sul tavolo Ma chi ce l'ha messo? Senti Lara Questi giocattoli fuori Però non vanno bene C'è la lol C'è Senza occhiali Tutta Scusami La puoi mettere a posto? Lasci tutto in giro Ma Ma io non sono stata Era sullo scaffale Infatti oggi ho appena messo a posto Senti Ma questo pacco? Io Non sa Non l'ho ordinato questo pacco Nemmeno so che cos'è C'è scritto Barbara Quindi è per me Ma E come è possibile? Ma Loll Loll Ma Ma per caso sei stata tu? No Non sono stata Dimmi la verità Ok Sì E che c'è qua dentro? Le lol Che? Perché mi annoiavo Quindi volevo tipo Una sorellina Veramente? Sì Ma quante? Sono cinque Due piccole E tre grandi Ma allora bisogna aprirle Vado? Sì Ti metto qui eh Ma chi è che ha provato ad aprire con la forbice? Io Cercavo di aprirle Perché non ce l'hai fatta? Sì Eh potevi chiamare direttamente noi no? No Eh mamma Tu è riuscita senza telefono Cioè Eh ti credo il telefono me l'ha preso qualcuno Vado eh Sono un po' emozionata No Le lol Seconda serie Ma come hai fatto? Eh L'ho trovata Basta cercare Ma sei stata bravissima Con un po' di curiosità Ma sono venute da lontano immagino Sì Senti ma Ti assomiglia un sacco Sembri tu Wow Non l'avevo vista Eh sì Senti vediamo che altro c'è Allora Ne hai presa una La seconda Qual è? Piccola Eh sì Ci stanno pure quelle baby Sì perché nella seconda serie Ci sono le lol E le lil Le lil sister Le sorprese Sono le sorelline Delle lol surprise E anche di questo Allora 35 nuove lol surprise E 45 di queste piccoline Secondo me l'hanno fatto Perché nella prima serie C'erano soltanto due baby E quindi erano le ultra rare Invece adesso c'è una serie completa Tutta quanta Di piccoline Ah E ho preparato pure un fiocchetto Per la piccola Un'altra piccolina Per la piccola ho preparato un fiocchetto Un'altra grande E un'altra grande Ma hai fatto veramente Mambassa Guarda Siamo pieni di Pieni di palline Lol Sì E quindi tu avevi bisogno Di un'amichetta Sì perché vivo tutta da sola Ne vogliamo aprire una Sì Io direi di aprirne Piccola 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 Una piccola E una grande Cominciamo? Sì Dai Cominciamo Allora la prima cernierina È da questa parte Vado eh E bisogna Tirarla E qui c'è il primo indizio Siamo curiosi? Sì La voglio leggere io Vediamo un po' Eh ma è più grande No È come l'altro Una coppa Coppa più Una bandiera Una bandiera Tipo Una bandiera Tiralo Il nome Come c'è il nome? Trophy No Trophy winner Ah può essere che sia il nome? Andiamo avanti Trophy winner La seconda La seconda la strappo io Va bene? Ma sì La seconda la strappa La la Vai Chica Adoro Strappare le cernierine Oh si è rotta Si è rotta Vediamo un po' Che c'era nel secondo strato Le cose che fa I bietti Allora Sputicchia Piange Fa la pipì O cambia colore Io spero che questa volta Cambi colore Sì infatti Io infatti Vedo dei video Sì aspetta Che adesso Un attimo Che devo cercare L'altra cernierina Allora Ve la intacco Vai Tiralo Che bella Sono Oh Cominciamo con la prima È fucsia Che bella Con i puntini Sembra Ladybug Allora Qua c'è il biberone Vediamo Vediamo cosa c'è Ti vogliamo pure noi Oh che carino il biberone Fucsia e azzurrino Guardate che abbiamo Mi piace il fucsia Oh Eccola 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 l'altra cernierina Allora Vado Vai Questa volta ci sta Le scarpine Io mi conseggerò La busta Ma quanto è bello Questo colore Sì Allora vado Vediamo un po' Che accessori ha Ci stanno le scarpine Le scarpine Ah qua c'è il buco Lo sapete Certo perché Se no Si riconfierebbe Troppo la busta Sì e poi diventerà No Sono padoni No Sono i pattini Per il ghiaccio Ma li vedete Che cosa sono Lo faccio io qua Qua lo faccio io Sono bellissimi I pattini Quindi è una sportiva Questa l'allina Ecco perché Il trofeo Esatto Forse è la vincente Che c'è Che c'è Oh il completino Il vestitino Guardate che vestito ha È una cosa È trasparente È pieno di Apro Ma si apri Allora che altro c'è No ci sono tutte cose La bamboletta La bustina La bustina La busta senza nulla La busta senza nulla Come senza nulla È buota Giuro è buota Apriamo No c'è un mistero ragazzi Questo è un mistero Ah è vero La cosa che c'è alla testa C'è una cosa C'è una cosa Cuffi Che c'è Tipo C'è una cosa C'è una cosa Vediamo No se no avere la busta Un ciuccio È una baby Hai il ciuccio C'è Eh hai il ciuccio Una sportiva Con il ciuccio Vediamo un po' Scusatemi Che fa finta Della neudata Possiamo aprire per la prima volta La nostra prima cartina Della serie 2 Sono tutte belle Io amo tutte Ma perché ce ne sono alcune Che non si vedono Forse Sono speciali Glitterate Ah questa è la regina L'ho vista già In qualche In qualche Altro video Eccola È lei Ice Skater No guardate come hanno scritto il nome Hanno scritto Guardate un po' Un gioco di parole Perché 8 In inglese si dice 8 Quindi ice L'ho messo SK8R Quindi si legge Ice skater Apriamola È fantastico Apriamola Dove sta I vestitini Della nostra Così Aspetta Vado Ci è andata benissimo Ragazzi È carina da morire Adesso Dobbiamo vedere Che cosa fa Se appunto Allora penso che Spruzzi Perché ha la boccuccia Almeno credo Non lo so Il buco Il buco Della pipì Questo fa la pipì Perché sento che soffia Allora ci serve dell'acqua Pronti 1 2 E 3 Ecco la nostra acqua fredda Proviamo a bagnarla Vediamo che succede Vediamo se cambia qualcosa Non cambia niente Non cambiano mai Le nostre non cambiano mai colore Vabbè Magari la prossima Ma infatti Bene Non cambia colore Però possiamo provare a darle qualcosa Tipo Da bere E vedere Cosa fare Bene Proviamo a vedere Che cosa fa Riempiamo il biberon E glielo facciamo bene Glug 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 Che buono Vediamo un po' Sputacchierà Piangerà Farà la pipì Farà la pipì Ma come Bene Ed ecco Il vestitino è stato messo Ha pevuto E ha fatto la pipì Possiamo mettere anche Il ciuccetto Ah e non dici E non dimentichiamoci una cosa Che cosa? Di mettere che fa la pipì Esatto Dobbiamo adesso Completare Il nostro bigliettino Mettendo le cose Che lei fa Quindi Lei che cosa fa? Fa la pipì Ecco qua A posto Belle Sono veramente carine Allora la nostra Fa parte del club Athletic Quindi di quelle sportive Ce n'è una che gioca a calcio Lei che fa Pattinaggio artistico E lei non si sa E lei non si sa È una sorpresa Chissà che cosa Troveremo Nel prossimo unboxing Ma adesso Che ne pensi Di aprire La lil surprise Apriamo la piccolina Dai Apriamo la bebè Questa è proprio la novità Della serie 2 Perché appunto Io spero di trovare Lei da piccola Perché Lo sapete Guardate Guardate Qua la lista Questa era Una della serie 1 Quella con i capelli La lil queen Questa era la lil queen La sorellina della queen Da piccola Sì 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 Oppure da piccola Esatto Seguiamo A quella grande Allora cominciamo Che dici? Pronti? Partenza? Via! Apriamoci la lil La piccolina Non ci riesco Ecco qui Trovato Allora Vediamo Queste sono Inbussate diversamente Non hanno Tutti gli strati Come le lol surprise Vediamo un po' Guardate Lol surprise Lil sisters Allora Vediamo un po' Questo primo strato C'è il bigliettino Che è un po' più piccolo E c'è Inghiaccio E' un coninghietto Coninghietto Secondo me Secondo me Snow Snow C'entra con C'entra col ghiaccio Metti che tante volte La sorella di questa Mamma mia Sarebbe fantastico Che c'è qualcosa Qualche indizio Sul bigliettino Di quelle alte Secondo te Vuoi provare Ad aprire tu Intanto il secondo strato? Sì sì Nell'interno Avanti eh Però ho un piccolo Sospetto Che potrebbe essere Questa Perché Lil snow angel C'è la neve Magari C'entra qualcosa C'è la neve Speriamo Quella è carina Allora vado eh Sbuccio 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 Avrò una sorellina Eh vediamo Allora La pallina è Che cosa c'è in questo? Cambio colore Cambio colore Ma è solo una pallina Sembra una bomba da bagno Sì Vero? Se era una bomba da bagno Ci facevo il bagnetto Io con Con la mia amichetta Oh è pieno di cose Allora c'è il bigliettino E certo Che è quello che abbiamo già visto Nell'altra cosa Poi c'è qui Qualcosa di Di grossino No 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 La bambolina La bambolina La bambola Io credo Sai che la cosa buffa di questa serie È che le Lil Hanno praticamente degli accessori giganti Sì Allora Lil Baby Step Vediamo un po' cosa dice qui Tipo la gonna gigante No Non ci credo Diventa un portachiavi Si aggancia Questo cerchio L'anellino del portachiavi E la pallina può diventare un portachiavi Fantastico Allora poi dice Di metterla nella Nel Nel bagnetto E poi Con il ghiaccio Che cambiano colore Bello Ora facciamo tutto Allora Prendiamo Lei la apriamo per ultima Che è la bambolina Questa che è la cosa gigante Questo Apriamo questo Sì la prima le cose più piccole E poi le giganti Esatto Tipo Tipo che io Tipo io di solito Tipo quando ricevo Di regali Tipo uno piccolo E uno grande Questo è il portachiavi È quello qua Tipo io quando ricevo Tipo dei regali Tipo cose le più piccole Poi alla fine le più grandi Giusto Ma non è che sempre Il regalo più grande È il più bello Però Qui ci sono delle scala No ragazzi Ha i pattini pure lei Non ci credo Credo che sia la mia Cioè Su 45 bamboline grandi E 35 piccole Quante sono Su mille bamboline Abbiamo trovato Le due con i pattini Questo Cos'è Adesso vediamo Ma dovrebbe entrarci Con il fatto Credo che sia il casco Però c'entra qualcosa Col coniglietto forse Visto che c'era Un coniglietto Vediamo qua È un cappellino È un cappellino È un cappellino Chill out E allora si Rientra in quelle Che abbiamo visto Perché la serie Di quella che abbiamo visto È la serie chill out E allora Andiamo avanti Dobbiamo aprire lei La bamboletta Pronte? Sì Non vedo l'ora Non vedo l'ora Oh quanto sei bella Oh quanto è piccola È piccolissima È proprio bellissima E adesso che l'abbiamo tirata fuori Dobbiamo vedere se cambia Come cambia colore Facciamo un po' di pulizia Perché su questo tavolo C'è un sacco di disordine Pronti? Uno Due E tre Il tavolo è tutto pulito Ci sono solo i suoi accessori Guardate che carini È gigante In pratica Le Lore Surprise E le Sister Hanno degli accessori Che non gli vanno Nel senso che sono quelli Della taglia Delle sorelle grandi Ed è buffo Perché loro sono talmente piccoline Che ci cascano dentro Praticamente Ho chiesto perché Io ho il ciuccio E lei no È vero Questa cosa è da chiedersela C'è la sorella Eh sì Tipo Lei dovrebbe avere il cappello Perché sei una piccolina Sei una piccolina E c'è il ciuccino E tu sei più E tu sei piccola di zero anni Esatto Non vorrei portarlo La cosa bella è che Gli accessori delle Leel Sisters Vanno perfettamente Alle grandi Per esempio La nostra Lollina La prima Può mettersi i pattini Esatto Sì Quindi sei contenta Hai scartato la tua amica E potete anche pattinare insieme Sei felice? Sì Ho sempre desiderato Di pattini Esatto Ma ci rimane da fare una cosa Dobbiamo vedere come cambi colore Allora È vero Serve del ghiaccio Eccolo qua Adesso te lo strofiniamo addosso E vediamo che succede Guarda Infatti Io speravo però il blu Vediamo se la mettiamo nell'acqua fredda Se succede qualcosa No ci vuole più freddo Ci vuole proprio il ghiaccio Ecco Mi è venuta un'idea Ecco Questa è la nostra pista di ghiaccio Oh che bello Sono veramente contenta di averti Anch'io Mi mancava proprio una compagnia Ora sono veramente felice E giocheremo sempre insieme E grazie dei pattini Prego Ah scusa Eri rimasta fuori Ciao Ci vediamo la prossima volta Noi continuiamo a giocare Ciao Ho trovato la nostra tecnica Facchetto del ghiaccio Nell'acqua E aspettiamo Per una settimana 2,76 mesi Che si raffreddino Vi faccio vedere un po' Guardate Ah Quello di pannolino Si sta diventando Tutta blu Pronti Vediamo che è successo Oh No E' comparso Un fiocco di neve Sul sederino Guardate Sul pannolino E la testa diventa Tutta quanta azzurra Il pannolino diventa blu Sembra Un pupazzo di neve Esatto Invece ecco I codini rimangono bianchi E davanti al pannolino Il pannolino è tutto blu Bellissima E' bello perché se la tocchi Guarda Torna subito Guarda Se la tocchi Torna subito Del vecchio colore Guarda Anche il pannolino Guarda Guarda Sì sì Basta toccarla con le dita E il colore subito va via Guarda Si vede pure qua Cambia colore immediatamente Sì Il fiocco di neve rimane Anche quando si torna Nel su Prova a metterla nell'acqua Riproviamo adesso A rimetterla Guarda Adesso che l'acqua È diventata fredda Lo fa subito Perché prima la mettiamo Nell'acqua che non era Tanto fredda Invece ora con il nostro Ghiacciolo si è affreddata E quindi un attimo Guarda Diventa subito blu Lo cancello nell'acqua E quando ti metti fuori Così la cancelli No è bellissimo Cioè il gioco più bello È proprio farle cambiare Colore i capelli È fantastica Blu Ah e non dimentichiamoci Ah che cosa? Di mettere l'adesivo Sì Di mettere l'adesivo E volevo farvi dire Anche un'altra cosa Che Lara ha montato Su il portachiavi Eccolo qui E ci ho messo 100 anni Perché era un po' duretto Bene ragazze Io spero che questo unboxing Vi sia piaciuto tantissimo Ecco qua Copriteci di like Riempiteci di mi piace Condividete questo video E iscrivetevi al canale Perché se questo video Andrà benissimo Ne apriremo altre due Quindi aspetta voi Grazie per aver visto Finora questo video E grazie di esserci Fan E di seguirci sempre Nelle dirette E negli altri video Un bacio a tutti quanti E ci vediamo prestissimo Ciao Ciao